Siamo scesi in piazza per diversi sabati, questa è la manifestazione nazionale, per chiedere le dimissioni del governo Conte. Un governo illegittimo ma soprattutto incapace non soltanto di affrontare l'emergenza sanitaria ma soprattutto di affrontare la crisi economica. Sono quattro mesi che questo governo promette sostegno alle famiglie, sostegno alle imprese, sostegno alle partite IVA, ai liberi professionisti, ma di questo sostegno non si è visto niente, si è parlato il 6 aprile della famosa potenza di fuoco di questo governo, di questa potenza di fuoco rimangono gli scoppetti perché gli italiani ancora stanno aspettando voi la cassa integrazione, voi dei contributi e le famiglie il sostegno. Come? Stiamo ancora aspettando di capire come e quando i nostri figli torneranno a scuola mentre nel resto di Europa già si è programmato e si è deciso come sarà il rientro, qui ancora siamo nel campo delle centopertiche e non sapremo se e quando i nostri figli torneranno a svolgere un percorso educativo normale.